Dovevamo dare una svolta, se prima non eravamo tanto preoccupati è il caso che cominciamo a preoccuparci, ma più di altro perché sarebbe un peccato non invertire questo trend e riprendere la corsa che abbiamo fatto prima. Al di là di questo, credo che la nostra squadra tanto ha fatto bene il girone d'andata, come ho già detto a tempi addietro, forse abbiamo fatto anche qualche punto in più, magari il giro di andata che non dovevamo, adesso stiamo facendo qualche punto in meno. Quindi dobbiamo cercare solo di cercare la tranquillità ma di metterci qualcosa in più durante la partita, perché è importante, secondo me, non usare il pericolo in certe situazioni, non usare il momento o no, stare con le antenne più dritte in certi momenti della partita, questo secondo me è molto importante, in questo momento è quello che forse ci sta mancando. I momenti difficili sono brutti da affrontare, ma sono allo stesso tempo belli che ti mettono in fronte a una sfida con te stesso. Non è facile quando le cose non vanno bene scendere in campo e essere tranquilli e giocare liberamente. La fortuna ci mette davanti un'altra partita domenica, quindi dobbiamo cercare di andare a Castellammare e dare il massimo.